Firmata questa mattina dal prefetto di Salerno, Francesco Russo, la nomina del commissario prefettizio che gestirà temporaneamente l'ente agropolese dopo lo scioglimento del Consiglio Comunale avvenuto la scorsa settimana. Il commissario, Silvana D'Agostino, si è insediata questa mattina a Palazzo di Città. Nata a Napoli, laureata in Scienze Politiche ed in giurisprudenza, è entrata nell'amministrazione civile dell'Interno nel 1990 ed ha svolto funzioni dirigenziali in diverse prefetture quali Benevento, Lecce e Campobasso. Poi il passaggio da Villino dove ha ricoperto negli anni che vanno da 2010 al 2014 le funzioni di dirigente dell'ufficio immigrazione per poi essere destinata a svolgere l'incarico di vice prefetto vicario a Teramo. Infine il trasferimento a Salerno. Da oggi guiderà l'ente agropolese per l'ordinaria amministrazione fino alle prossime elezioni comunali che si terranno il 12 giugno.